Io ho deciso, ve lo dico, di non candidarmi con alcuno, probabilmente mi asterrò esattamente come facevo prima del 2011, quando nella mia città, nella città in cui ero residente, si è presentato alle urne del Movimento 5 Stelle, di cui sono stato candidato per le comunali, ho deciso di tornare a fare un altro lavoro da cittadino e credo che sia la cosa più giusta, anche perché noi la rivoluzione culturale la dobbiamo fare dal basso, noi dobbiamo tornare a praticare partecipazione e condivisione. Quando il Movimento si è posizionato nei palazzi ha dimenticato che l'albero è forte quando le radici sono sviluppate e profonde e scendono e tengono l'albero, tengono il terreno e permettono al fusto di slanciarsi verso l'alto e di saper reggere il vento. Il vento adesso impetuosamente ci ha travolto e quell'albero è declinato, si è piegato.